Siamo molto felici, sono molto felice come direttore generale dell'ISPRO di poter essere qui e poter parlare di prevenzione oncologica in un ambiente straordinario come questo animato ovviamente da tantissimi giovani. La prevenzione oncologica oggi rappresenta realmente una delle grandi armi per combattere ovviamente le patologie oncologiche. Per prevenzione oncologica noi intendiamo la prevenzione primaria, cioè l'educazione agli stili di vita, ma intendiamo anche evidentemente la prevenzione secondaria e gli screening. Perché è importante quindi parlarne e parlare di prevenzione oncologica per i giovani? Perché i giovani innanzitutto possono essere veramente la chiave di lettura e costruire la loro salute, ma soprattutto possono essere il vettore straordinario per tutti noi per far comprendere come la prevenzione oncologica è vita. Quindi quello che io rinnovo è il nostro claim di di sì alla prevenzione oncologica. Questa è la nostra campagna e quindi chiediamo a tutti i giovani di dire di sì alla prevenzione oncologica. Ricordo solo questo, che per prevenzione oncologica noi intendiamo in primis lo screening sulla mammella, lo screening sul coloretto, lo screening sulla cervice uterina, ma anche la vaccinazione per quello che è il papillomavirus. Quindi l'importanza di lavorare tutti insieme per la prevenzione oncologica, diciamo tutti un sì, soprattutto attraverso i giovani.